e ragazzi ciao amici di fisharlandia e benvenuto a un nuovo video anzi benvenuti a un nuovo tutorial della serie ripartiamo da zero oggi come avete visto da titolo voglio parlare della pesca all'inglese invito già subito tutti voi a scrivere qua sotto nei commenti se avete qualche desiderio questa è una serie che piace molto grazie a tutti anche per l'interazione che c'è in questa nuova serie abbiamo fatto la serie ripartiamo da zero per la pesca a fondo per la pesca con il galleggiante italiano per la pesca traina per la pesca spinning sono mini tutorial che la dicono lunga su quello che sono le basi della pesca che tutti dovrebbero sapere e chi già pesca ma se lo vuole comunque ricordare si vuole rinfrescare la cosa sono delle basi diciamo standard un po in tutte le tecniche oggi voglio parlare della pesca all'inglese mi soffermerò sicuramente un pochino di più su quello che è l'utilizzo e il perché si utilizza il galleggiante inglese al posto del galleggiante italiano questo come vi dico sempre è importantissimo perché bisogna sapere che il perché delle cose per poi essere molto più snelli e diventa molto più semplice per capire tutto il resto e vi voglio anche soffermare un secondo su quella che è la montatura voi non lo sapete ma questo è il secondo video che io registro su questa tecnica perché pochi minuti fa mi sono accorto che il microfono non funzionava proprio alla fine di questo video 21 minuti di registrazione buttati via ma questo è un altro film è un'altra storia è un altro cinema quindi veniamo a noi ci tenevo a dirvelo quindi veniamo a noi pesca all'inglese le canne e le attrezzature che si usano per questa pesca sono solitamente delle canne in tre pezzi questo per modo di vedere la pesca all'inglese ma spesso e volentieri noi le utilizziamo telescopiche quindi la canna all'inglese telescopica che potrebbe essere un'incredibile della fly potrebbe essere una che è l'ex Hulk potrebbe essere una toro della linea F insomma ce ne sono moltissimi modelli li distinguiamo perché il carbonio è un carbonio trecciato dona alla canna l'azione giusta per lanciare un galleggiante inglese che alle volte è molto pesante quindi ha una buona elasticità un'azione parabolica ma mantiene comunque un'ottima potenza perché vi ricordo che il galleggiante inglese può arrivare a pesare tanto il mulinello deve essere tutt'altro che piccolo perché stiamo cercando di andare a una certa distanza con un galleggiante quindi sicuramente gli dobbiamo dare una mano utilizzando un galleggiante di una media grande dimensione si parla di un 3000 a volte un 4000 alle volte anche un 5000 chiaramente all'interno del mulinello va caricato il nylon non la treccia e il nylon va caricato in base anche alla dimensione del nostro galleggiante e a quanto vogliamo fare e farla pesante questa pesca quindi possiamo arrivare al massimo del 24 25 26 nel mulinello fino a ridiscendere spesso e volentieri anche a 1 0 16 qua apro e chiudo una parentesi perché spesso e volentieri la pesca all'inglese per noi in italia viene utilizzata come galleggiante inglese ma su una canna bolognese quindi si utilizza e quindi si mescolano spesso e volentieri la canna bolognese che solitamente si usa con un galleggiante italiano che ha solo una portata e fino e utilizzando però una montatura con il galleggiante inglese quindi un galleggiante che ha un peso e una portata qua viene il tutto che cos'è il galleggiante inglese ma soprattutto prima ancora perché la pesca inglese si chiama così molte anni fa sembra nascere in inghilterra per un'esigenza come al solito guardate un po' un'esigenza ci porta a modificare una pesca che già si faceva la pesca col galleggiante è una pesca base che si è iniziata a fare con i tappi di sughero delle bottiglie fino ad arrivare galleggianti che hanno una portata veramente di alto livello con le derive le astine in carbonio eccetera eccetera da questa esigenza qualcuno sembra in inghilterra a causa di zone molto ventilate ha bisogno di lanciare distante il galleggiante e allora che cosa succede che qualcuno si inventa di prendere un galleggiante che ha una portata di 10 grammi ce ne mette 8 dentro e lancia più in distanza si accorge poi che per poter talare questo galleggiante non ce ne deve più mettere 10 perché 8 sono già dentro ce ne deve mettere 2 e qua l'uovo di colombo signori miei il galleggiante inglese che ha 2 portate il peso e la portata appunto del galleggiante è veramente una cosa un'idea grandiosa per noi che andiamo a pescare adesso vi spiego il perché quindi lì nasce la pesca all'inglese per questa motivazione quindi utilizzano questi galleggianti pesanti per andare in distanza con queste modalità perché dico che il galleggiante inglese che cos'è il galleggiante inglese il galleggiante è uguale galleggiante piombato sul galleggiante italiano normale che non ha un peso se non il suo peso specifico minimo troviamo un numero che può essere 3 5 1 10 8 20 che è la portata noi ci mettiamo 20 grammi e il galleggiante si tara in acqua ne mettiamo 22 e il galleggiante affonda il galleggiante inglese invece ha 2 portate ok ci ha scritto un numero che è un 2 3 5 10 che è il suo peso più un altro numero che è la portata cioè quei grammi che servono perché in modo che lui si vada a tarare esattamente sul filo dell'acqua perché è inutile dirlo il galleggiante inglese vi ho portato una pena perché questo non è un video dove faremo vedere tutta la serie enorme infinita dei galleggianti inglesi ma questi poi alla fine sono i più usati perché il galleggiante si deve tarare così e non così perché a distanza così se mangia un pesce non lo vediamo se lo tariamo così se a distanza manda un pesce mangia un pesce e sparisce quindi lo vediamo per forza quindi il galleggiante deve essere sempre più o meno tarato per quello che ha la sua portata su un galleggiante come questo ci sono due dati il primo numero che è il peso in questo caso è un 3 grammi il secondo numero che può essere la portata cioè i grammi che vanno messi sotto in modo che lui si possa tarare a questo livello qui viene in gioco una cosa che ci fa gioco apposta scusate il gioco di parole perché quando noi peschiamo con il galleggiante normale possiamo pescare con un galleggiante delle più svariate grammature ma dobbiamo essere sicuramente attenti a non esagerare troppo vi spiego se io sto pescando col galleggiante e voglio pescare a 10 metri di distanza e mi accorgo che per andare là ho bisogno di 10 grammi se uso il galleggiante italiano là ci vado ma in acqua ho 10 grammi perché lo devo appesantire arriva il galleggiante inglese io prendo un galleggiante che è 8-10 grammi già di suo ma che porta un grammo differenza enorme perché in un caso abbiamo una lenza che ha soggettata da 8-10 grammi dall'altra parte abbiamo la stessa distanza di lancio perché il galleggiante pesa quanto quello anzi si lancia anche meglio devo dire la verità ma sotto se prendiamo un galleggiante più 1-2 possiamo permetterci di pescare con 1-2 grammi in acqua una cosa veramente interessantissima diamo naturalezza qualora lo volessimo alla nostra montatura e possiamo pescare tranquillamente così ora vi farò vedere chiaramente qualche montatura l'ho già disegnata perché il problema era quello di prima cioè nel senso ho già disegnato le varie montature quindi ve le sto a spiegare perché è successo che prima il video come vi ho raccontato prima quindi vediamo le montature per questo galleggiante inglese la cosa fondamentale è che nel galleggiante italiano devo decidere se comprare e se pescare con un galleggiante fisso oppure se comprare e se pescare con un galleggiante scorevole cioè lì cambia la struttura del galleggiante attenzione il galleggiante invece inglese è un galleggiante che non ha cioè quindi quello di prima era sul discorso del galleggiante italiano un galleggiante inglese invece non cambia il galleggiante cambia l'attacco si possono utilizzare gli attacchi fissi o gli attacchi scorevoli ma prima di andare a diventare matti in questo discorso voglio cambiare immediatamente le inquadrature vi voglio fare vedere come è fatto un galleggiante inglese andiamo a zoomare un goccino di più in questo modo qua vedete i miei schemini intanto vi lascio anche qua sul video in modo che potete già andarci a dare un'occhiata il galleggiante inglese è questo ragazzi questa ad esempio è una penna ha in fondo un attacco che è una girella che ruota e permette di attaccarlo appunto al nostro attacco fisso o scorevole che sia sopra ha due indicazioni la prima vedete 3 più 2 quindi 3 il suo peso 2 la sua grammatura in questo caso ve ne ho portato un altro che invece è una grammatura di 3 più 1 quindi vedete 3 più 1 benissimo in questo caso lui pesa sempre 3 ma è un grammo attenzione come funziona la taratura di un galleggianti come vedete sono tutte e due da 3 grammi ma uno è più corto e l'altro è più lungo per quale motivo? perché la portata in questo caso della piombatura che lui riesce a sopportare è data da questo tubicino che è pieno d'aria infatti qua in fondo e qua in cima ci sono due piccole guarnizioni che non permettono all'acqua di entrare ma non permettono all'aria di uscire di conseguenza quello che c'è qua dentro è la taratura chiaramente se io avessi un galleggiante sempre 3 grammi ma che portasse 5 o 6 grammi cosa abbastanza rara da trovare però dovessimo trovare un galleggiante del genere avrebbe l'astina molto più lunga perché ha più aria e quindi porterebbe più peso quindi ricambiamo di nuovo l'inquadratura andiamo in questo modo ora vi voglio fare vedere semplicemente quali sono le differenze degli attacchi e per i nostri galleggianti inglesi che possono essere il fermagaleggiante fisso lo vedete in questo caso vi ho portato quelli della stoffa che sono i più conosciuti i più comuni i più economici funzionano benissimo oltretutto non pesano granché il fermagaleggiante sempre fisso ma per il diciamo che è un attacco grande quando andiamo a utilizzare galleggianti di peso piuttosto importante andiamo a utilizzare un attacco per galleggianti fisso piuttosto importante in questo caso spesso e con la girella ma possiamo altresì utilizzando sempre i nostri due galleggianti uguali andare a mettere un attacco scorrevole l'attacco scorrevole non è nient'altro che questo gancino che poi è il moschettone di una girella ma non c'è la girella con un foro in cui il filo passa all'interno chiaramente c'è il fermagaleggiante scorrevole piccolo oppure in questo caso l'attacco jolly proprio per esagerare ve l'ho portato che è un attacco scorrevole per il galleggiante quando il galleggiante è molto grande o addirittura possiamo applicarci il nostro pasturatore ora vi faccio vedere e vi racconto quali sono le montature perché come vedete qua abbiamo le due montature che io vi ho preparato in precedenza abbiamo chiaramente partiamo dalla lenza la lenza che arriva dalla canna sulla lenza si montano i due tubicini che sono i tubicini che vedete qua in questo in questo pacchettino in questo modo così oppure questi qua neri mettiamo i due tubicini sulla lenza poi andiamo a inserire questo gancetto di metallo il primo dentro un tubicino e il nostro galleggiante diciamo inglese la nostra penna lo andiamo a inserire all'interno di questo ferretto e rimane appesa in questo modo poi prendiamo l'altro tubicino lo andiamo a incastrare qua chiaramente posso portare su e giù il mio diciamo la mia taratura del mio galleggiante a piacimento in base al tipo di pesca che vado ad affrontare e anche alle condizioni chiaramente sotto questo attacco che sarà fissato sulla mia lenza ci saranno le solite modalità di piombatura ora non entro troppo nello specifico però dovete sapere e vi ricordo che per avere una montatura che vada prima sul fondo cercherò di mettere quello che sono le tarature del mio galleggiante più uno o più due o più tre in base al mio galleggiante cercherò di mettere in modo più accumulativo il piombo della portata del mio galleggiante verso la girella per far andare giù subito tutto quanto e per avere poi poco svolazzo del mio terminale in questo caso oppure posso diluire questo un grammo questo due grammi oppure questo tre grammi con più pallini subito sotto il galleggiante in modo che lui si vada a tarare subito e il tutto ridiscenda con estrema naturalezza questo chiaramente succede e funziona quando abbiamo un fondo che ci permette di pescare con il galleggiante fisso cosa che assolutamente vi consiglio vi consiglio perché, ve lo spiego dopo, perché pescare con il galleggiante scorrevole su queste portate minime diventa piuttosto complicato, piuttosto noioso e anche, devo dire, piuttosto antipatico ora vi faccio vedere la modalità e la montatura del galleggiante inglese scorrevole che è la stessa identica cosa, cambia solo una cosa e bisogna aggiungere un'altra uno stopper sopra sul filo e un attacco per il galleggiante scorrevole eccoci qua, andiamo al secondo schemino, come vi dicevo prima, preparato in precedenza qua abbiamo le nostre due parti che sono i nostri due gancetti ok, in questo caso abbiamo la nostra lenza madre che arriva, scende fuori dagli anelli della canna dobbiamo andare a mettere sul nostro filo il nostro attacco scorrevole per il nostro galleggiante possiamo decidere se piccolo o se grande, solitamente vi consiglio se riuscite di usare il piccolo perché porta via poca taratura al nostro galleggiante e qua rendiamo il tutto scorrevole poi mettiamo la nostra girella, il nostro terminale con il nostro armi in fondo la nostra piombatura anche in questo caso vi consiglio se dovesse farlo assolutamente l'attacco scorrevole, il galleggiante scorrevole, usarlo concentrare il più possibile la grammatura qua sotto dovete aggiungere sulla lenza uno stopper che è questo qua quindi perché dobbiamo aggiungere lo stopper e perché io vi consiglio di non usare la montatura scorrevole ve lo spiego subito, lo stopper non è nient'altro che una cosa esterna dalla nostra montatura può essere un nodino, tanto per capirci, il nodino di sangue fatto con un filo di cotone bello robusto potrebbe essere quello che chiamiamo il chicco di riso fatto di silicone potrebbe essere un chicco di riso fatto di cauciu per avere più tenuta insomma non è nient'altro che un qualcosa posizionato sulla lenza e fissato, stretto sulla lenza che poi deve passare negli anelli della canna e deve eventualmente anche imbobinarsi nel nostro mulinello in modo che quando io lancio tutto quanto in acqua e chiaramente ho il mio attacco scorrevole il mio piombo che è sotto faccia ridiscendere tutto il filo che passerà attraverso il foro del mio attacco fino a che il nostro stopper arriva sul mio attacco scorrevole quando lo stopper arriva qua il galleggiante entra in pesca e noi siamo perfettamente in pesca come quando lo siamo da subito con la montatura e con il galleggiante e l'attacco fisso il problema nasce proprio qua, un galleggiante inglese secondo il mio punto di vista deve essere utilizzato sì per fare distanza del lancio ma neanche più di tanto ma soprattutto per avere la possibilità in distanza di usare pochi grammi se noi peschiamo con il galleggiante con l'attacco scorrevole e abbiamo pochi grammi sulla lenza vi posso assicurare che è molto difficile fare scorrere il filo dentro l'attacco scorrevole perché a un certo punto non ha più attrito quindi dovrei usare sotto 5-10 grammi di piombo e allora perde un po' il senso di questa montatura con il galleggiante inglese perché allora a questo punto posso utilizzare tranquillamente ma alle volte siamo obbligati a farlo nel senso che se abbiamo un fondale di 8-10 metri dobbiamo andare per forza con l'amo sul nostro fondo perché vogliamo pescare lì abbiamo una canna anche da 6-7 metri dobbiamo essere, siamo costretti a usare il galleggiante scorrevole alle volte però, questo ve lo dico personalmente, quando ho una canna in scogliera da 6-7 metri e ho un fondo di 8-9 metri cerco un punto dove questo 1-2 metri lo guadagno e mi sposto perché tanto poi con la pastura i pesci li possiamo far spostare dove vogliamo mi sposto proprio perché è noioso, veramente noioso, faticoso e soprattutto dubbioso il funzionamento e il fatto che poi il nostro amo sia arrivato sul fondo, non solo nel momento in cui stiamo pescando scorrevoli fino a che il nostro stopper non raggiunge l'attacco scorrevole noi in acqua non sappiamo cosa sta succedendo potremo scendere e dei pesciolini potrebbero andare a mangiucchiare l'esca il mio galleggiante rimarrà sdraiato sull'acqua e non si accorgerà assolutamente di niente fino a che lo stopper non arriva a combaciare con questo allora me lo segnalerà, mentre invece con il galleggiante fisso, cioè fissato sulla lenza con l'attacco fisso riesco a essere in pesca immediatamente questa cosa è una cosa che mi piace perché il dubbio della pesca è una cosa veramente brutta avere il dubbio di non avere più l'esca o avere il dubbio che un pesce ha mangiato e rimanere lì anche pochi minuti ma in attesa di un non nulla è una cosa che a me non piace, quindi è proprio per questo e queste sono le motivazioni che mi spingono se non obbligato a non usare l'attacco scorrevole avevo anche lì preparato, farvi vedere come rimane la nostra montatura diciamo in acqua una volta che ho lanciato il nostro galleggiante spostiamo tutto quanto e vi faccio vedere quello che vi avevo preparato quindi questa è la nostra superficie, questo è il nostro fondo in questo modo e qua abbiamo la situazione finale, quando peschiamo con un galleggiante scorrevole abbiamo la situazione con un galleggiante fisso, chiaramente la finalità è che il nostro galleggiante sia a filo dell'acqua, il nostro filo che arriva dal nostro mulinello andrà qua in questa posizione e non in questa posizione, l'esempio ve l'avevo fatto apposta e poi andrà a ridiscendere con la nostra spallinata, con i nostri piombini, la nostra torpilla è il nostro filo che andrà a sfiorare il nostro fondo quindi niente paura, tutto questo ambaradan è assolutamente anti-ingarbuglio anche se non sembra, perché l'opinione è quella che questo galleggiante appeso alla lenza possa ingarbugliarsi, ma invece così non è chiaramente quando io tiro fuori la mia montatura lui andrà ad appoggiare se è scorrevole sulla girella se è fisso rimarrà fissato sulla lenza in deriva quindi questo penzolerà nel vero senso della parola sulla nostra madre ma quando io faccio il movimento di lancio e va in acqua quindi questo difficilmente, molto difficilmente si andrà a ingarbugliare sulla lenza quindi ha anche un ottimo sistema di ingarbuglio si ingarbuglia meno con la penna, in questo caso con la montatura giusta rispetto a quello che è un galleggiante italiano classico che ha soltanto chiaramente una portata ma anche lui ha un bel senso spesso e volentieri si uniscono, come vi dicevo la pesca bolognese con la pesca inglese dalle nostre parti sinceramente lanciare troppo distante diventa una cosa impegnativa bisogna pescare con galleggianti molto pesanti abbiamo bisogno di carne molto pesante e dedicate abbiamo bisogno anche di pasturare laggiù in fondo inutile secondo me lanciare a 30 metri, a 35, 40 metri di distanza per poi laggiù non arrivarci con la pastura non si sta parlando di pesca col pasturatore che sarà la protagonista di un prossimo video perché molti di voi me lo chiedono assolutamente quindi parleremo della pesca col pasturatore col galleggiante e senza il galleggiante perché si può anche fare una cosa del genere quindi via la fantasia nel mondo della pesca soprattutto base come stiamo facendo noi però in questo caso il galleggiante inglese a mio vedere è quello che ti dà qualcosa in più ma sempre nel rispetto dell'utilizzo di poca grammatura in acqua è la cosa che secondo il mio punto di vista rende veramente vincente questo tipo di pesca sul discorso delle canne abbiamo già fatto il discorso il preambolo che possono essere canne tranquillamente canne telescopiche sono canne che normalmente sono canne in tre pezzi perché così vuole la regola di questa pesca le differenze ci sono, le lunghezze che vi posso consigliare sono la differenza fra l'acqua dolce perché è una pesca che si fa tantissimo in lago ho fatto tantissimo in lago ma anche moltissimo in mare dipende dalla situazione quindi si passano con delle canne inglesi telescopiche che normalmente sono 3,90 m, 4,20 m, 4,50 m fino ad arrivare all'utilizzo delle bolognesi che possono essere sicuramente 5, 6, 7 m attenzione a usare canne molto lunghe come le 7 m anche con galleggianti non troppo pesanti perché comunque la 7 m è una canna che non ci permette di forzare a quel punto allora preferirei utilizzare e ve lo consiglio magari l'avete già una canna da 5 m bolognese medio potente che fa benissimo anche questo lavoro e si può portare a casa anche un bel divertimento qua in questo lavoro bene ragazzi abbiamo diciamo terminato questa infarinatura di questo discorso sulla pesca all'inglese vi invito come sempre vi ringrazio ancora una volta per mettermi qua sotto nei commenti quelli che potranno essere i prossimi argomenti appunto di questo ripartiamo da zero questa bellissima serie che mi piace moltissimo parlare di queste cose che possono venire bene sia che inizia una tecnica magari perché ne fa un'altra sia perché vuole proprio approcciare una tecnica nuova sia invece chi fa già questa pesca ma ha bisogno un po' di un rinfrescamento della memoria rinfrescarsi la memoria fa sempre bene a questo punto ragazzi vi do l'appuntamento al prossimo video che deciderete voi quindi io prendo sempre appunti mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube attivate le notifiche per essere avvisati ogni qualvolta Fisherlandia uscirà con un nuovo video e mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social mezzo molto molto semplice per promuovere il nostro canale grazie a tutti per essere stati con noi a questo punto spero che il microfono abbia funzionato la telecamera abbia funzionato le luci ci sono e quindi a questo punto io vi saluto io e ripartiamo da zero con la pesca all'inglese vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi spero di essermi ricordato tutto perché dirla due volte ciao 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 ciao